Un gesto simbolico, ancestrale ed assolutamente emozionante. L'anima delle universiadi è tutta nel fuoco della torcia che da un capo all'altro del mondo non smette mai di bruciare. Ad Avellino la fiamma arriverà il giorno 22 giugno. Sarà la prima tappa campana e coinvolgerà nove atleti di altissimo spessore, tutti irpini e tutti vincenti. Carmine Tommasone, campione europeo di Pugilato. Agostino Cardamone, campione del mondo di Pugilato. Natalia Trunfio, campionessa del mondo di tiro con l'arco. Cristian Ferrara, campione europeo di karate. Giuseppe Colantuono, campione del mondo di sollevamento pesi. Riccardo Romano, campione europeo di nuoto pinnato. Ermilio Pinunni, campione di taekwondo. Giuseppe Vitale, azzurro del goalball. E Nando De Napoli, ex calciatore italiano, l'unico irpino a disputare un mondiale con la maglia degli azzurri. Una staffetta ideale che sancirà l'inizio delle universiadi e che condurrà per mano la provincia di Avellino in un viaggio assolutamente entusiasmante. I nuovi tedofori che correranno lungo le strade cittadine, dando il via ad una delle esperienze più belle ed intense della storia della nostra provincia, metteranno il loro nome a servizio di un intero popolo.